La scabbia è una malattia parassitaria, l'acaro della scabbia parassita la pelle umana e la trasmissione avviene da secoli per contatto interumano, quindi pelle a pelle. Non comporta rischi per la salute se non l'estremo fastidio del prurito che è il sintomo principale. Un caso di scabbia in un asilo di Arezzo a Salleo ad avvisare i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna a Don Milani è stata l'azienda sanitaria riportando alcune informazioni riguardo alla malattia, cosa è, come si manifesta, come si trasmette e soprattutto cosa fare in caso di contagio. Abbiamo inviato la lettera ai genitori della scuola non tanto per la gravità della malattia ma perché non essendo così frequente la diagnosi potrebbe essere anche, potrebbe sfuggire, essere più tardiva. Si fa la terapia sia alla persona che agli altri contatti familiari per essere sicuri che, di aver circoscritto come dire, il problema, dopodiché è finito. Ecco, non succede niente di particolare. Siccome la possibilità di trasmissione avviene anche tramite indumenti e biancheria, il lavaggio a oltre 60 gradi uccide l'acaro. Per i prodotti che non si possono lavare ad alta temperatura si chiudono in un sacco di plastica per almeno 48 ore e dopo si espongono all'aria. L'acaro a quel punto è già morto. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure necessarie per disinfestare gli ambienti ma la scuola non verrà chiusa. Inutile dire che tra i genitori serpeggia la preoccupazione.